Io sono il Vice Presidente della Camera, sono quello che dovrebbe guadagnare di più in assoluto di tutti quelli del Movimento 5 Stelle in Italia. 23.000 euro netti al mese, questo dovrebbe essere il mio stipendio. Io alla fine percepisco 2.500 euro, più rimborsi che vi rendi conto e voi li vedete tutti quanti sul mio sito internet e sul sito della Camera, e facendo così abbiamo restituito solo questi tre mesi, solo negli ultimi tre mesi, 2.500.000 euro dei nostri stipendi che danno su un fondo ministeriale per le piccole e medie imprese, che è pubblico, con un regolamento pubblico, a cui accedono le piccole e medie imprese italiane che vogliono piccoli prestiti a tasso agevolato e che le banche gli hanno chiuso i rubinetti. Alla fine di questo mese andremo dalla prima impresa che ha avuto accesso a questo fondo grazie ai nostri soldi e che magari ha salvato la vita a quell'impresa, ai lavoratori eppure all'imprenditore che molto spesso in questo paese si suicida. Questo ci tenevo a dirlo perché è stato nel nostro programma e lo stiamo facendo. Siamo tutti con voi e vi daremo sempre una mano.